Guido Guidesi, cartellino giallo per l'Italia, il pareggio di bilancio per l'Unione Europea può essere posticipato al 2015. La Lega Nord come commenta questa notizia? Il cartellino giallo doveva essere un cartellino rosso e di tutta evidenza che il segnale dell'Unione Europea è stato sminuito da un lato rispetto alle trattative che ci sono state perché per ciò che dice la relazione dell'Unione Europea questo Paese dovrebbe assolutamente essere commissariato. Questo è il frutto della politica economica del governo del Partito Democratico, prima con Enrico Letta e poi con Matteo Renzi, una politica economica che ha aumentato la disoccupazione, ha aumentato il debito pubblico e ha aumentato le tasse. Se questa è la ricetta del PD questo Paese sarà fallito a breve.